Non so se la mentore è partita dell'anno, so che i ragazzi avevano ricordato tutte le nostre buone prestazioni contro le grandi squadre perché è vero che abbiamo anche perso due volte con la Juventus, ma abbiamo sempre giocato, abbiamo sempre provato a fare le partite e quindi ci voleva grande convinzione, grande entusiasmo nell'affrontare un avversario così forte e personalità. Poi è chiaro che siamo stati bravi a provocare l'espulsione e la superiorità numerica nostra e dopo siamo stati bravi a sfruttare l'espulsione numerica, giocando con personalità, con precisione e quindi è stata una partita sicuramente vicina alla perfezione, partite perfette non ce ne sono ma questa secondo me ci si avvicina parecchio. Dobbiamo accontentarci, oggi questa è una partita che ci deve dare slancio per le prossime tre gare, questo è quello che conta. Poi è chiaro che siamo soddisfatti, oggi è difficile immaginare non di vincere ma di vincere così nettamente contro una squadra così forte come il Napoli. Ci deve dare convinzione, dobbiamo recuperare l'energia perché comunque l'energia è per tutti, per tutti stanno per finire e pensare alla prossima gara con la consapevolezza che abbiamo delle qualità e che se giochiamo con ritmo, se giochiamo con intensità possiamo dire la nostra ed è questo che vogliamo fare già domenica prossima a Genova. è una trasferta molto difficile. Abbiamo cercato di muovere palla con personalità, con i due mediani e i tre difensori perché Laurini doveva spingere un po' meno per cercare poi di trovare spazi o tra le linee o in profondità e secondo me l'abbiamo fatto bene. Poi ripeto, dopo cinque minuti è cambiata senz'altro la partita ma abbiamo continuato a lavorare bene. Sì, Saponara ce l'aveva con me, io ce l'avevo con lui, ma è tutto a posto, è normale che sia così però bisogna rispettare i cambi di allenatore, è chiaro che nessun giocatore deve essere contento di uscire ma ho visto che secondo me è la scelta giusta da fare ma ci siamo cariti immediatamente, non ci sono problemi però bisogna accettare quello che si fa. Facevo fatica a pensare che il Napoli avesse più motivazione di noi. È vero che il Napoli ha il suo obiettivo che era grande ma anche noi abbiamo il nostro che è quello di dare il massimo. L'abbiamo fatto dal 4 luglio, la squadra sa quanto ha lavorato, la squadra sa quante situazioni ha dovuto superare per crescere così tanto, sa quello che abbiamo, solo noi sappiamo quello che abbiamo provato, quello che stiamo provando quindi le motivazioni erano al massimo. Io ho cercato solamente di dare convinzione ai giocatori ed entusiasmo. Era una partita che dovevamo giocarcela come avevamo fatto comunque all'andata. Io credo che uno dei migliori partiti che abbiamo fatto all'andata sia stato il primo tempo di Napoli dove ci è mancato solamente di sfruttare qualche situazione che abbiamo creato. Quindi l'impostazione, a parte qualche variazione, è stata simile e quindi abbiamo giocato con convinzione approcciandola bene a quello che volevamo perché giocavamo davanti ai tifosi, venivamo da due butte sconfitte una settimana difficile, sfortunata, qualche responsabilità nostra e di qualcun altro e quindi volevamo reagire e dimostrare che siamo ancora vivi e che vogliamo fare il meglio possibile fino alla fine del campionato.